ma bentornati ragazzi da quanto tempo che stavamo su brawle cioè mo su prostans che non stavamo su headball 2 ragazzi su headball 2 ragazzi non ci stavo da un botto cioè ho fatto l'ultimo video dei headball forse sei mesi fa perciò ragazzi ho detto perché no ovviamente continuare a portare headball con nel mio canale e dico ragazzi ci hanno fatto molti aggiornamenti da come vedo perché prima non era niente così era molto più brutto ora è molto più bello ragazzi intanto vi ho da dire una cosa speciale intanto ragazzi mi sto un po' offendendo perché c'è ragazzi ci manca questo iscritto per arrivare a 150 iscrivetevi che ne so fatevi l'account fate qualcosa no fatevi l'account no però tu che stai guardando questo video e che non sai ovviamente chi sono io chi sono io che ragazzi vabbè io sono il più forte del mondo sì sì con 500 fan sono il più forte del mondo e beh certo ragazzi mi dà ancora consigli perché abbasta e mi dà ancora consigli ragazzi perché ovviamente non ci sto giocando cioè non è che gioco ecco ragazzi ma vi diamo della verità volete la verità e volete la verità e volete la verità e ho volete la verità va bene io intanto ragazzi su headball non ci sto giocando tantissimo ne ha inti tanto perché ovviamente con la scuola e ragazzi non sto neanche facendo tanti video infatti farò forse se ci riesco due video al giorno e poi uno mi rilasso e l'altro no e poi vabbè ci sarà un calendario preciso ecco in pratica sì come potete vedere ragazzi abbiamo un nome molto serio ci chiamiamo minimetto ci chiamiamo minimetto ragazzi c'è vedere che nomi da combattente minimetto oltre che non c'è non ridete anzi ridete ridete c'è una bellissima cosa il mio cane si chiama minimo perché mio padre si chiama massimo in pratica è il più grande della casa massimo e la casa è minimo non c'è non ragazzi però non perdiamoci in cianci e andiamo a giocare con il nostro minimetto che cosa me ne frega non voglio sapere niente non mannaggia andiamo ragazzi che non ci gioco da head ball per me no da quando me lo so strano però due giorni fa infatti vedete che non ho tanti fan allora ragazzi scusatemi ma ora sto usando l'app mobizen e abbasso perché però ragazzi sto usando l'app mobizen e non più due recorder perché due recorder mi sta andando male perciò oh vai vai guys con il gol oddio è chiesto qua ok va bene ragazzi ovviamente perché non ci gioco da tanto sono un po sbarordito da ciò che sta accadendo vai dai stavo dicendo ragazzi e io a voi non mi ricordo più che cosa stavo dicendo però ragazzi un grande io ovviamente basta che scrivete hashtag quello che vuoi hashtag lasagna sotto il video ragazzi scrivete hashtag lasagna sotto il video verrete salutati ogni volta ovviamente però ragazzi se non scrivete hashtag lasagna io non vi aiuterò eh oh sennò poi è troppo semplice dovete pure un po allenare quelle vostre manine no bro no bro no bro no bro dai grande grande bella 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 ok raga lo stiamo distruggendo 500 fan però cioè lo stiamo massacrando sempre la stessa mossa ma lo voglio trollare facendogli così anzi fermandomi e poi andarli verso la porta perché non abbiamo mai fatto questi gol almeno in questa partita poi vabbè sì da se no 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 vabbè dai 7 a 1 non è che sia un dispiacere immenso eh ok raga sì però così non è bello e non è più bello ok ragazzi io ora devo essere pro pro player sapete i pro player come con lì che giocherà fortnite devo essere grande pro player io grande pro player perciò voi dovete supportarmi no sì sì tutta fortuna ci credo che è tutta fortuna se sono tutto sfortunato perché sono pro player eh sì ragazzi ma vabbè ma è incredibile poi ovviamente e ragazzi io ovviamente non ho non posso avere abbonati perciò raga si è bloccato il gioco ragazzi mi si è impallato però non uscire a rientrare e raga intendo dire che a me e io ragazzi perciò veramente non ho capito no eh appunto no non l'avete capito niente perché mi sono completamente scordata perché ragazzi ho un vuoto di memore nel cervello ehm ma molto grande molto grande Comunque stavo dicendo Si ora mi sono ricordato Che io non ho abbonati Perciò voi sarete i miei Iscrabbonati Non so ragazzi Comunque chi scrive hashtag lasagna Sotto il video verrà salutato E chi invece Ragazzi Chi invece scrive Voglio essere salutato con hashtag Lasagna Lo saluterò E in più se mi scrive il suo Nome di Brawl Stars Lo potrò aggiungere negli amici Entrate anche nel club ragazzi Scusate come si chiama Ma mi sai che me ne vuole uscire da quel club Si chiama Juve e Lecce Scusatemi per i milanisti e per gli interisti Io non tifo Juve O tifo soltanto Lecce Io non tifo squadre Non ho preferenze per le squadre ragazzi Ascoltatevi bene Io non ho preferenze per le squadre Però Mi hanno consigliato questo club Io sono entrato Mi sto trovando bene Poi non è che Tutto Juve Ci sono quelli che ti fanno Roma Quelli che ti fanno Milan Ragazzi Puoi diventare tanto È gratuito State tranquilli Tanto è normale Ora ci mettiamo Jack Jack appunto Jack E andiamo In partita Ok raga Ok 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 ragazzi siamo in partita Ho fatto un piccolo taglietto Giusto piccolo piccolo Andiamo già Pam Mamma mia ragazzi Primo secondo Già facciamo Ma quanto siamo pro Eh vabbè ma Allora secondo me ragazzi Questa qua che scherza Ma seria Ma sei seria Ma quanto cavo Ragazzi preferisco giocare A quando avevo 4000 fan Sti qua Fanno schifo Cioè Minimetto Sta battendo tutti È pro player Lui è il pro player Sentite ragazzi La sostanza Del La fragranza Del La vittoria I stranieri anche voi Ed volto ragazzi È un gioco davvero molto carino Molto bello Soprattutto perché Ci sono delle teste giganti Che non hanno il corpo E hanno soltanto La scarpa sotto E' molto carino E anche Brustart Se volete diventare I miei amici O vabbè Se vi piace Giocateci Io ragazzi Ora Questa qua Dovrebbe essere L'ultima partita Perché mi sono perso Molto in ciance Perciò Non Sempre ragazzi Sempre setta uno Poi è bella Prima questa cosa Ragazzi In pratica Volevo dirvi Volevo dirvi Che Non è Molto Ovviamente Voi Ragazzi Mi si sta Baccando il gioco Oggi Non so che cosa Sta succedendo Ma sto video È proprio brutto Per favore Lasciate il like Se non lo volete Non lasciatelo Per favore Lasciate il like Ragazzi È per me È per me Io vi voglio Bene Io vi voglio Bene Non è che Non vi voglio Bene Attenzione Vuoi più bene Ai miei parenti Ovviamente Però Vi voglio bene Dite che Dite che Mi supportate Alla fine Ragazzi Non riesco a mettere Mannaggia La pupazza La pupazza Sì sì Quella di pezza Quella di pezza Dai Raga Con il 10 Mi sa che Prima Non abbiamo Mi sa ragazzi Che prima Non abbiamo Oh Non riesco Più a parlare Mi sa ragazzi Che prima Non abbiamo Prato 10 Meglio così Ora Questa stuola Non si è E passiamo Pure a un quarti Nella lega Amatore Attenzione Attenzione C'è uno Che si chiama Philip Ragazzi Il gioco Oggi Non va bene Comunque Vi stavo dicendo Installatevi Brawl Stars E anche Headball Che è davvero Un gioco Che a me piace Penso pure a voi E niente ragazzi Prima che si baghi Proprio il tablet Io vi manderei Un grande saluto Dal vostro Davix Ciao